Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e oggi ragazzi ce ne sono davvero delle belle per tutti soprattutto riguardanti l'evento che arriverà tra pochissimi giorni e che segnerà per sempre la fine della season 10. Oggi abbiamo già avuto un assaggio di quello che potrebbe capitarci con una delle sfide, quella a tempo straordinario dove dovevamo cercare due registrazioni, due delle sei registrazioni del visitatore che ha rilasciato un audio in italiano davvero incredibile. Non tutti forse l'hanno ascoltato, voglio farvelo sentire. Nel video di oggi parleremo oltre che di questo audio anche del probabile teaser che arriverà proprio nel pomeriggio di oggi. Se fanno come è successo nelle altre season potrebbe essere proprio oggi la prima giornata del primo pezzo del puzzle che andrà a comporre appunto il teaser per la stagione numero 11. C'è già qualcosa in giro, ve lo mostrerò e poi vi farò comunque vedere anche tutte le posizioni già svelate delle sei registrazioni del visitatore. Prima però volevo ringraziare, ho finito la voce, ringraziare tutti quelli che mi guardano ogni giorno su Twitch in live e soprattutto tutti i ragazzi che utilizzano il codice creator XIUDERONE. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però è la domandina ve la devo fare, sono proprio curioso oggi perché la domandina è molto molto personale, ve la faccio subito. Ma te che tasti usi per le armi? Sai che sono curioso? Dai ditemelo qua sotto nei commenti come vi trovate comodi con le vostre armi. Io utilizzo molto il mouse, schiaccio la rotella per prendere il fucile a pompa, la rotella verso il basso per prendere la R, la rotella verso l'alto per la mitraglia, la Q è il cecchino e il control di sinistra per l'ultimo slot che di solito tengo, per le cure. Ditemi come fate voi invece qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo leak che arriva direttamente dal profilo twitter del nostro donato mostardone ragazzi. Donald Mustard modifica la sua location, quando lui modifica la location lo sapete cambia sempre qualcosa in game, location di adesso chiamata The Hand. La fine in poche parole lo stesso nome dell'evento che ufficialmente vedremo in gioco, noi ovviamente leggeremo la fine. Abbiamo anche direttamente per gli utenti di playstation l'evento in poche parole che va a segnare il termine di questa stagione, domenica 13 ottobre alle 21 sembrerebbe. E come vedete la is near, se noi associamo le due parole, the hand is near, la fine è vicina. Tutti si aspettano qualcosa di incredibile, di pazzesco per questa season che sta per arrivare. Io sono convinto che direttamente verremo portati nell'evento, nella nuova mappa e quindi anche nella nuova season. Mi chiedo semplicemente ma come facciamo a scaricare l'update? Come è da così? Magari abbiamo già la mappa in game e l'abbiamo già scaricata e non lo sappiamo? Non lo so, ma staremo a vederlo insieme. E andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi, anche le nuove sfide a tempo straordinario. Per chi se le fosse perse sono uscite ieri alle 15, arriveranno tre blocchi da due sfide l'una. Le prime due le abbiamo viste fare danni ai nemici, mi sembra per un totale 2500, e prendere le prime due registrazioni. La prima era sopra l'isola fluttuante dove c'è il camioncino giallo, la seconda invece nel negozio di corso commercio. Ma come vi anticipavo ragazzi abbiamo, anzi ho, anche le registrazioni delle quattro posizioni mancanti delle cassette. Volevo appunto condividerle con voi se riesco per qualche strano motivo. Eccoci qua ragazzi, ve le faccio vedere la prima, quella che si può vedere è anche a Moisty Punch, quindi a Alex, come cavolo si chiama? Putrito Pantano, chiamatelo un po' come volete ragazzi, come vedete sopra la struttura principale vicino alle prigioni. La seconda è quella che invece abbiamo preso ieri, che è appunto sopra il camioncino giallo sull'isola fluttuante. Ne abbiamo altre quattro, comunque vi farò dei video separati. Una, la terza, si trova invece nella City, quella dove cadono le stelline, che mi ricordo mai come si chiama quella città lì ragazzi, insomma gli ex Castelletti vicino al Corcivia del Ciarpame. Come vedete sopra il letto, nella struttura più alta, si trova, mi sembra al secondo piano, la cassetta numero 3. Questa invece è la numero 4 che abbiamo preso ieri, come vi dicevo, a corso commercio nel negozio più a destra rispetto all'insegna del pescione, quello che si muove, basta semplicemente salire le scale e nel piano rialzato dove ci sono le librerie troverete di fronte a voi la musicassetta. Andiamo a vedere subito la numero 5 che invece ha Gotham City davanti al teatro dove c'è il nome, The Final Reckoning, quindi il film in poche parole che stavano proiettando, come vedete, molto molto semplice, Gotham City, per passare poi alla sesta e ultima registrazione che si trova invece nel tacco di Boschetto Bisunto, nel tavolo che in questo momento state vedendo, quindi molto molto facile capire anche la sesta posizione della musicassetta. Insomma ragazzi, non vi preoccupate che comunque le vedrete senza nessun problema. è tutto nero e adesso vediamo perché, senza nessun problema, nei prossimi video. E se riusciamo a togliere il tutto nero e andiamo avanti, cosa ovviamente impossibile in questo momento, fantastico, ecco ci siamo, ce l'abbiamo fatta, stiamo parlando ragazzi anche della voce del visitatore, incredibile perché alcuni dicono di averla già sentita ieri quando hanno recuperato con la skin del visitatore le due musicassette, io personalmente non l'ho sentita ma ho il file audio in italiano originale e ce lo ascoltiamo insieme. Fin dal principio il rischio per noi non era trascurabile, probabilmente anche altre persone sono in osservazione oltre a loro, ma dobbiamo farlo altrimenti perderemo il ponte per sempre. Credo che nessuno abbia i dati corretti sulla conformazione dell'isola. Quelle collisioni di materia interdimensionale risolverebbero tutto senza esercitare pressione. Ora che lo vedo è chiaro che l'effetto della morsa anche da solo non lascia scampo. Allora, è un po' strano ragazzi, quello che dice non si riesce proprio a capire al 100% il significato della frase, parla di una conformazione dell'isola non corretta, parla di alcune materie che avrebbero potuto essere controllate in qualche modo. Insomma ragazzi, una voce veramente incredibile, un file audio meraviglioso che lascia appunto capire che c'è dell'altro dietro il visitatore e soprattutto che si continua a parlare di isola, isola che potrebbe essere nuova nella stagione numero 11. Tanta tanta roba ragazzi per questo file audio, io ripeto non l'ho ascoltato in game e volevo chiudere proprio con questa immagine invece. Non credo, se devo essere sincero, che possa essere real. Per il momento la prendiamo come fake, sarebbe la possibilità del primo teaser che dovrebbe arrivare in questo pomeriggio se per caso i teaser in questa season fossero 4, 4 come quelli se non ricordo male della season numero 8 ma 3 mi sembra per la season numero 10. Come vedete sappiamo sicuramente che ci sarà il Fortnite, quindi uno degli eventi più sentiti di Epic Games e insomma staremo a vedere che cosa ci capiterà questo pomeriggio. Vi ricordo che caricherò anche il secondo video con le due posizioni delle nuove registrazioni. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo tutti i giorni in live su Twitch. Ciao!